È necessario uscire dalla NATO, uscire dalla UE e uscire dall'OMS, poi riavere una unica, popolare, moneta, nostra, sovrana, perché noi stiamo affongando e una volta che siamo affogati del tutto non ci risalva più nessuno. Noi siamo come un canotto pieno di buchi, continuiamo a metterci tanti piccoli cerotti, ma questi cerotti non bastano più. Dobbiamo per forza riunire le nostre forze, tornare alla Costituzione e tornare ad essere un'Italia sovrana e popolare. E' Rosalba Fanciulli la candidata all'uninominale e alla Camera con Italia sovrane e popolare, un'alleanza che mette assieme 15 sigle. Dobbiamo togliersi dal gioco della NATO, dobbiamo smettere di inviare le armi, dobbiamo smettere di spendere soldi negli armamenti quando non abbiamo i soldi per noi, perché l'Italia è un paese che sta andando a fondo, perciò non avendo soldi per noi, dove mandiamo i nostri soldi? Altra cosa importantissima, ovviamente dobbiamo riprendere subito i negoziati con la Russia, dobbiamo smettere di pensare alla guerra perché noi non siamo un paese guerra fondaglio, noi non siamo l'America, noi non vogliamo la guerra, noi l'abbiamo avuta la guerra, sappiamo che la guerra ha portato solo fame, distruzione e pianti e ha creato un sacco di vedovi e di dolore, perciò a che cosa serve a noi la guerra? A niente, noi dobbiamo riprendere subito discorsi non solo con la Russia ma con tutti, perché noi dobbiamo andare con tutti, dobbiamo prendere le materie che ci servono da tutti. E un'altra cosa importantissima, dobbiamo togliere le sanzioni perché queste sanzioni che gli altri stanno facendo arricchire, a noi ci stanno portando ancora più a fondo nel profondo. E allora, cui prodoste? A chi è che vale questo? Mette chiara poi anche la posizione sulle multinazionali per le quali Italia Sovrana e Popolare chiede una tassazione alla stregua delle attività italiane dei settori corrispondenti. Tassando le multinazionali noi possiamo trovare di nuovo i soldi per i nostri, per i nostri italiani, per noi, possiamo trovare i soldi per le nostre bollette, per l'operaio, possiamo trovare per il commerciante, per l'artigiano che non ce la fa più, perché è questo per tutte le famiglie, perché le famiglie stanno vivendo, hanno un indice di povertà che non si è mai raggiunto prima. Stanno diventando neanche proletari, cioè sono i nuovi compagni, i nuovi proletari di adesso. Noi stiamo pagando tutto, si paga tutto, perché ogni cosa dal 40, 60, 70% paghiamo tutto e non hanno più. Noi, perché anche io sono un'artigiana e non abbiamo neanche i soldi per poter a volte fare un qualcosina in più. E invece che cosa succede? Le multinazionali se ne vanno fuori. E questo le sembra giusto? Questo è un paese equo? Chi ci ha portato a questo? Chi ci ha portato a questo?